c'è la piscina sopra la piscina è che ora c'è Real Madrid non è spagato Real Madrid si c'è il suono di Real Madrid e la bimba dove veniva a fare il video? dal 7 no dall'8 al 13 lo vai a fare te? si si dall'8 al 13 l'anno scorso è lui dal mattina dal 7 dal 7 bravo questo